Facciate proprio altro, mirate la faccia, mirate la faccia, mi sa che non è carina da dire ma mirate la faccia del vostro compagno. Faccio muovere prima, bravo. Ok, 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 ci siamo. Le spalle, eh ragazzi, la mobilità delle spalle, la mobilità delle spalle, quella che abbiamo provato fino adesso, le spalle si devono muovere, destra e sinistra. E non devono rimanere sullo stesso piano, bravo, mi piace quel baggerino, diamogli più parabola. Non è meglio però come vedi? Eh? Eh? Però non è non durare con quel grosso pulone facendo questo, il movimento è questo. Sei attivo, non sai che ho fatto una palla a polo, devi fare io la palla, non sei handicappato, più o meno di balza. Eh, sì, è veloce, non... Eh, possiamo vedere se era giusto. Eh, sì, certo. Guarda là, guarda che sono fai veloce. Buono, buono, buono. Deve fare la bossa. Ma non la cacciare lì. Se tu ti sposti e non ti arriva il braccio, questo deve rimanere in posizione. E poi andare in piedi, tu devi anche dire il tempo al passivo. Quindi è il massimo di fare il mio braccio. Al vento contro? No, se non ci arriva il braccio, però non puoi fare il nostro braccio. Al vento contro. Se va a far schizzo, non è successo. Se ti fai un po' più alto. Sì, ma ne fai un po' più alto. Sì, è forte. Sì, è forte. Sì, è forte. grazie 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 ok stop l'ultimo esercizio di questa sequenza con il fatto che abbiamo questa gabbia vieni 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 allora qua il principio il principio è quello del esatto esattamente quello del portiere e quando si tirano i gol cioè lui deve rimanere girato verso me ovviamente noi gli tiriamo la palla alta 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 significa che le spalle in su e lui non deve farmi far gol ok il suo obiettivo qual è? se noi ci prendiamo più o meno a questa distanza la sua ricezione deve essere alta sulla linea da quel tocco ok io mi lancio il pallone alto e lui la deve ricevere alta lì io lancio la bassa messo il destrozzo ok questo non è tutto culo e le sfiorano la linea eccola bolla come avverterla tutte le palle alessi metti tutti i lampi a prendere le palle non ricevo mai quindi uno uno che si fiora la lente braccia alte io da qua non posso andare indietro io devo stare necessariamente con il peso in avanti e la palla devo tenere in avanti ok sono giù basso in ricezione questa ricezione fa schifo sono i nostri nozzi bravi 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 ok facciamo facciamo dieci lanci a testa dieci lanci a testa qua l'uscita vostra non potete scegliere già prima perché non saprete se il lancio arriverà un po' più a destra o un po' più a sinistra ok